Vado a questo viaggio qua perché ero uno zio che purtroppo è morto, ha fatto 18 mesi a Mauthausen e quando era ritornato poi negli anni 70-80 qualche volta mi chiedeva di andare con lui e non sono mai andato, allora prendo un po' quest'occasione per onorare un po' la sua memoria Sono molto contento di questo viaggio anche perché mi dà l'opportunità di confrontare con tutto quello che ho letto in tutti questi anni, finché ho visto eccetera Penso che mi lasci una bellissima esperienza soprattutto da saper raccontare ai nipotini Spero di essere in grado di interessarli su un argomento che mi pare molto delicato in questi periodi che stiamo vivendo Spero in una non ripetizione ma in effetti un po' di paura c'è in questi rapporti con gli estracomunitari e tutte queste cose che stanno succedendo in questi periodi La prima cosa ci interessa perché è stata organizzata con i ragazzi e spero durante questo tragitto di poterne conoscere qualcuno e scambiare qualche parola tra generazioni sulla follia umana Ma non solo su questa follia ma anche su tutte le follie che ci sono nel mondo che sono una quantità enorme e che molti giornali non ne parlano Altra cosa mi piacerebbe che questa esperienza magari possa essere di aiuto per organizzare qualcosa Abbiamo fatto questa iniziativa perché visto che ci sono dei giovani che vanno a vedere una cosa che è terribile Noi quando eravamo ragazzi abbiamo vissuto questa esperienza perché qualche nostro parente magari era anche stato in questi campi e ci ha tramandato e ci hanno fatto vedere dalle fotografie che abbiamo visto perché noi avevamo dei parenti che erano stati in questi campi Pensano che non sia neanche esistito Il fatto di partecipare a questa iniziativa, a questo viaggio di Piaudi da parte mia perlomeno è di capire e verificare fino a che punto può essere arrivata la follia dell'uomo Ho letto solo sui libri, credo che andare a venire veramente a vedere questi campi mi possa dare la dimostrazione di essere sempre comunque un uomo ponderato e cercare di mantenere i nervi a posto anche in questi momenti così drammatici Grazie